Posso chiedervi perché essere qua oggi pomeriggio? Siamo qui come italiani che sono assemblati per quello che sta succedendo qui a Rezzo. Siamo con loro, siamo come loro e vogliamo la tranquillità come chiedono loro. Chiediamo anche noi. Che cosa avete provato quando avete visto quei titoli di giornale dei vostri connazionali? Non so se tu vieni dallo stesso paese. Sì, vengo dallo stesso paese, però mi sono vergognato perché sentendo che i miei compaesani si comportano così, come posso usare i termini animali, a me non mi è piaciuto. Capito? Si potrebbe magari comportarsi bene, vivere bene. Io sono qui da dieci anni, sto bene. Però da quello che succede oggi è una cosa vergognosa. Io, se vedi quelli che fanno casino oggi, sono quelli che hanno trasportato qui. Quelli nuovi arrivi sbaccati qui, sono loro. La gente che stanno qui da anni, che lavorano, non si comportano come loro. Sono quella gente lì che hanno mandato qui e loro che fanno casino. Se guardano intorno è tutto loro. Quindi secondo te che cosa ci dovrebbero essere? Più controlli? Più controlli, perché ora c'è la macchina della polizia. Si aggiustano un pochino, però non devono fare solo oggi. Devono cercare di passare più spesso, vengono qui, fai giro, vedrai che questa gente spariscono. Perché hanno anche paura di essere beccati. Però se non c'è controlli, perché quando le cose succedono, controllano soltanto in quel momento. Dopo, se nessuno parla più, non va bene. Bisogna continuare questi controlli, vedrai che le cose cambiano.